La signora Anna che ha un vivido ricordo della venuta di San Giovanni Paolo II qui a Termoli. Certamente è stato un evento straordinario, lo ricordiamo tutti, è impossibile non ricordarlo. Tutta Termoli e dintorni, eravamo tutti lì al porto ad accoglierlo lungo la strada. Noi in particolare, mio marito lavorava in Dogana e quindi eravamo andati lì sulla finestra degli uffici della Dogana. Però mi ricordo mia madre che ancora mantiene la foto, è riuscita a toccargli persino la mano e era andata proprio su di giri, ha conservato quella foto che noi teniamo molto cara perché gli è passato proprio vicino. Poi soprattutto adesso che è diventato santo, il ricordo diventa ancora più importante.